Grazie Presidente, congratulazioni, lei ha scelto, sembra, il progetto più adatto come caso esemplare da discutere oggi. Abbiamo una serie di aspetti, il primo è legato alle priorità. Fissare le priorità è difficile. È una scelta difficile nel contesto di una scarsità di fondi disponibili con la contrazione dello spazio finanziario pubblico e ancora con le infrastrutture, con i costi di manutenzione che stanno lievitando per le autorità nazionali e la manutenzione sta diventando una priorità un po' dappertutto. Quindi stiamo attenti a non passare un estremo all'altro. E' importante lavorare sui certi dettagli e lavorare su progetti piccoli che possono avere un impatto significativo a breve termine. Il Dottor Kramer sa quanto siamo seri al riguardo. E' stato parte di lavori che abbiamo svolto e questo ci ha portato anche a rivedere certe politiche. Ma stiamo attenti all'obiettivo lungo termine. Un continente che di colpo smettesse di investire in progetti a lungo termine, molto lungo termine, sarebbe un continente che avrà deciso di scomparire dalle carte. E' importante edificare per il futuro. E qui faccio un passaggio di presentazione del Dottor Ibanezio. Io mi accerterò che per ogni argomento che utilizza noi presenteremo una contro-argomentazione. Il Dottor Ibanezio ha molto rispetto per il suo lavoro e per lui. Ma il punto di partenza del suo lavoro è il passato. Il nostro punto di partenza è lo sguardo al futuro che è importante per il continente. Per un continente che ambisce a esistere e vuole restare all'altezza delle sue ambizioni. Altro aspetto sollevato era il tema legato alla certificazione dei costi, l'audit, le valutazioni. Francamente si può discettare sul merito di un progetto come il Dottor Ibanezio e sui suoi meriti, sul fatto se sia la giusta priorità al momento giusto, eccetera. Io nel Torino è stata predidentificata nel regolamento. Sef come progetto prioritario, da Parlamento e Consiglio, anche questa è una realtà che non possiamo ignorare. È identificato come progetto prioritario da sostenere, da appoggiare. Ma penso che non si possa continuare a criticare questo progetto in termini di abuso di fondi, valutazioni prolungate o stime di costi errati. La pubblicazione imminente della certificazione dei costi dovrebbe essere un'altra opportunità per spiegare che la valutazione comprensiva dei costi è obiettiva e che i costi non si discostano dalle premesse su cui stiamo ancora lavorando, anzi che dovrebbero gettare ulteriore chiarezza quanto all'aspetto finanziario del progetto. Mi farà un grande piacere ricordarvi, ho fornito una lista dei vari audit e valutazioni realizzate. Per esempio, l'esempio eloquente del dottor Ibagnes che avremmo finanziato sulla base di fondi europei pubblici, dei fondi destinati alle forze di polizia. E' stato sì proposto, ma non è così, perché l'agenzia ha rifiutato, perché questi costi appunto non sono costi ammissibili quanto gli ostacoli che rimangono. Qui l'Ines ha fatto un intervento molto vigoroso, ossia un progetto a lungo termine e oggi appunto non sono perfetti ideali, ma ci stiamo lavorando sopra, stiamo lavorando sul problema della interoperabilità e l'onorevole Cramere sa meglio di me, conosce l'argomento meglio di me, visto che è stato uno dei principali relatori del pacchetto ferroviario passato. Poi ce l'operiamo perché Paesi e Stati membri si mettano d'accordo sulle condizioni che permettono alle infrastrutture di essere utilizzate. Non è un grosso problema nel caso di Perpignan-Figueres, l'infrastruttura c'è, ma purtroppo non c'è un impegno solido dei due Stati a fare il necessario con le misure di accompagnamento perché questa infrastruttura possa essere utilizzata. Ecco perché abbiamo insistito così tanto e così a lungo con i governi francesi e spagnoli per arrivare a un accordo pieno titolo su impegni a lungo termine anche per l'accordo franco-italiano perché per evitare l'esempio franco-spagnolo l'eurotunnel è un altro esempio, fantastica opportunità di far passare più merci. Il trasporto merci è cresciuto perché? Perché c'è voluta una procedura di infrazione per ridurre drasticamente i diritti esatti per l'utilizzo del tunnel. Quello che manca purtroppo è una infrastruttura sul versante britannico adattata. I britannici stanno investendo molto nel settore ferroviario e la situazione sta migliorando all'estremo britannico adesso. essenzialmente voglio dire che lei mi dice se ci sarà ancora gente disposta a spendere su questo progetto. Sì, pensiamo che vogliamo spendere su questo progetto perché sia razionale e perché sia importante per il futuro europeo. ovviamente siamo più che mai disposti a fornire informazioni, a dialogare con chi ha interessi legittimi, a rispondere a chi ha interessi legittimi sul progetto e mi fa piacere che ci sia stata una prima discussione di gruppo su questo progetto che poi proseguirà anche la prossima settimana. Grazie.